A Comabio, i diritti di pesca sul lago di Comabio. Note ed appunti. Qui ci sono dei cenni sulla storia del lago di Comabio. Così si racconta. Fin dal lontano 1900 era opinione pubblica che il lago di Comabio fosse il più pescoso della nostra penisola. E che in esso il pesce persico si sviluppasse più rapidamente che in qualsiasi altro lago europeo. Infatti l'avannotto di questa specie cresceva da 0 a 18 cm in solo 15 mesi. Per quanto riguarda il lago di Comabio, il pescato medio giornaliere calcolato sull'intera annata era di circa 100 kg, mentre quello di Monate è solo di un terzo. Le specie ittiche presenti nel primo erano le seguenti. Per il 50% pesce persico, 30% a borelle, triotti e qualche scardola. 15-20% tinche. La rimanente percentuale era composta da lucci, anguille e qualche carpa. Per quello di Monate, invece, il 60% era coregoni, il 20% dei persici e il 10% di tinche e rimanente di pesci minori. Antorno all'anno 1905, la gestione Borghi affidò il lago al signor Besana, studioso di fama, il quale importò e introdusse nei nostri laghi specie nuove, quali il persico sole, il gobbo, la sandra, il boccalone, che è americano e un grande numero di cieche, che sarebbero le anguille piccole. Durante la sua gestione, che durò fino al 1928, i laghi raggiunsero la loro produzione massima, produzione massima, quindi oltre 400 quintali annui per il lago di Comabio e 150 per quelle di Monate, anche se non vennero variate di molto le percentuali sopra elencate. Si notò in particolare una diminuzione del numero dei persici a favore del sandra e dell'anguilla sul nostro lago, mentre su quella di Monate aumentarono i persici e i coregoni. A memoria d'uomo, si ricordano gobbi che raggiungevano il considerevole peso di 500 grammi, lucci di 11 chili, sandra di 17 chili e carpe di un peso superiore ai 40 chili. L'amministrazione pesana, però, si ricorda soprattutto per i massicci ripopolamenti e continui rinsanguinamenti e le spese per la costruzione e il mantenimento delle legnaie. Queste legnaie, che legnaie sarebbe il luogo dove il persico le ale depone le uova, erano costruite con fascine di rovere tagliate al mese di dicembre in fase di luna calante, poste a macerare in riva al lago e poi, nei primi giorni di marzo, poste a dimora nei luoghi prestabiliti. Nel lago di Comabio si contavano oltre 110 legnaie e venti in quelle di Monate. Ogni anno, alla stessa epoca e con le procedure sopraindicate, si alimentavano queste legnaie con tre fascine di quercia per ognuna di esse, così da rinnovare con una nuova legna quella che a poco a poco marciva sul fondo. Dopo il 1928, la gestione dei due laghi fu affidata al signor Salvadè, il quale ridusse drasticamente le spese facendo solamente l'indispensabile, riducendo inevitabilmente la quantità del pescato, che man mano ritornò ai quantitativi dei primi anni del 1900. Altre testimonianze raccolte ci indicano un pescato annuo di circa 120 quintali per l'anno 1946 e circa 200 per il 1950. Per il lago di Monate le quantità possono essere calcolate in un terzo del nostro. Dal 1950 in poi si è assistito a un continuo sfruttamento dei laghi, fino a ridurli allo stato in cui versano oggi, dal punto di vista anche della pescosità. E' interessante tenere presente che le società aventi il diritto esclusivo di pesca si sono sempre servite, sia per il prelevamento del pesce, di pescatori di professione, da 5 a 10 pescatori, i quali, a dire di molti, percepivano uno stipendio mensile medio pari al 40% del ricavato netto della vendita del pesce. E questo stipendio è sempre stato superiore alla media degli stipendi pagati allora dall'industria o dall'artigianato locale. Oggi sui due laghi esistono un pescatore e una guardia, che ne vivono a malapena delle moltissime risorse di un lago, che fu definito il più pescoso d'Italia. Da circa dieci anni i comuni rivieraschi del lago di Comabio e la provincia si sono costituiti in consorzio e, dopo lunghi e accurati studi condotti da eminenti studiosi e tecnici sullo stato delle acque, hanno deciso la costruzione di un collettore circunlacuale, atto a raccogliere l'acque di scarico, che per ora finiscono nel lago, per trasportarle in un depuratore che sta sorgendo a Bardello. Il consorzio ha approvato quest'anno un bilancio con un miliardo e 600 milioni di lire che serviranno alla costruzione del primo lotto dei lavori. Anche sul lago di Monate si sta costituendo un simile consorzio, nella speranza di prevenire l'inquinamento delle acque, che è solo la fase iniziale. Per questo si conta su un sollecito impegno dei comuni di Leveralschi e dell'amministrazione provinciale, affinché lo formino a più breve tempo possibile, prima cioè che il lago versi in una fase di inquinamento irreversibile, come quella dei laghi di Comabio e di Varese. E queste sono notizie di circa dell'anno 1981.